Subito un piano straordinario per il rispetto delle ordinanze. Pugno duro del governatore della campagna Vincenzo De Luca che scrive al ministro dell'interno Luciana Lamorgese, dopo il provvedimento firmato ieri, che prevede l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto su tutto il territorio regionale fino al 4 ottobre. Sollecitiamo il ministro, afferma De Luca, a comunicare il piano in quanto, come più volte segnalato, ogni misura sarà vana se non sarà assicurato un capillare controllo sul territorio in ordine all'osservanza delle prescrizioni volte a contenimento dei contagi. Si rinnova, pertanto, la richiesta di un impegno straordinario delle forze dell'ordine in campo e di un incremento numerico delle stesse, indispensabile all'efficacia delle attività di controllo inerenti all'emergenza. In relazione all'avvio dell'anno scolastico, il presidente ha inoltre di nuovo segnalato al governo, con una lettera inviata al presidente del Consiglio e al ministro per l'istruzione, la necessità di approvare un piano per evitare spostamenti interregionali degli insegnanti e per sopperire alla mancanza di docenti di sostegno. Si insiste, sottolinea il governatore, nella richiesta di aduzione di ogni atto necessario di implementare le unità di sostegno da destinare alle scuole della campagna, anche in deroga al regime ordinario, per garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità. E si segnala la pressante esigenza, nel contesto epidemiologico che si registra sul territorio regionale a livello nazionale, di evitare la mobilità interregionale del corpo docente, per i rischi di diffusione del contagio ad essa connessa. Grazie a tutti.